A Salerno abbiamo la fonderia Pisano che a mio parere deve essere chiusa, punto, perché inquina e non fanno nulla per evitare l'inquinamento, tanto per essere chiari. Ha lasciato senza fiato Lorenzo Forte, il presidente del Comitato Salute e Vita, la dichiarazione rilasciata alla platea degli studenti del liceo scientifico Francesco Severi di Salerno dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, parlando di come la politica debba trovare una giusta mediazione nella salvaguardia di interessi come lo sviluppo sostenibile ma anche i livelli occupazionali, ha citato l'esempio delle fonderie Pisano di Salerno, ribadendo, come aveva già fatto in altra occasione, che l'impianto inquina e va chiuso. In pratica quello che sostiene il Comitato da vent'anni in una lunga battaglia legale è anche di contrapposizione con gli enti locali chiamati a controllare e a difendere il territorio. Oggi, in una conferenza stampa convocata nei giorni scorsi per parlare del nuovo percorso legale avviato dal Comitato, che approda la Corte Europea di Giustizia con un ricorso presentato dagli avvocati Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella per trovare le sue ragioni nella difesa dell'impiente contro le fonderie Pisano, Lorenzo Forte ha esplicitamente invitato il vertice dell'impianto di fratte Guido Pisano a querelare il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Pisano, nelle scorse settimane, aveva minacciato di querelare chi continuava a sostenere l'inquinamento della sua azienda rispetto ad una serie di certificazioni ambientali, tra l'altro ribadite anche ieri dopo l'esternazione del presidente De Luca, che vanno invece nella direzione di dimostrare che la fabbrica non è pericolosa e che si stia lavorando per ridurre le emissioni. Così, cosa ha provato quando ha sentito le parole del presidente Vincenzo De Luca ieri in merito alle fonderie Pisano? Beh, siamo rimasti profondamente colpiti perché per la prima volta, dopo vent'anni che lo diciamo, Vincenzo De Luca finalmente ammette, dà con dati certi che la fonderia, in maniera senza giri di parole, che la fonderia inquina e non fa nulla per non inquinare. In base a questo, la logica e l'atto conseguenziale è che a giorni arriverà, per quanto ci riguarda, da parte o del presidente De Luca o del sindaco che era presente lì al Severi, un'ordinanza contigibile e urgente di chiusura perché conoscerà dati che non solo per noi già prima c'erano tutti i presupposti e i dati per chiudere, ma dati anche recenti che confermano che la fonderia, come dice il governatore De Luca, perché è lui il presidente che dà le autorizzazioni e è lui che le revoca, inquina e non fa nulla per non inquinare. Perché non c'è la firma di Guido Pisano? La stessa firma, il presidente del consiglio d'amministrazione, che non meno di due mesi fa ha annunciato di querelare chiunque parlava contro le fonderie e tra chiunque c'erano le mamme, i padri, i fratelli, le sorelle di tante vittime morti e ammalati di cancro nella Valle dell'Irno che chiedono giustizia. Beh, Pisano dovrebbe essere conseguenziale e dovrebbe avere la dignità e il rispetto dei morti e degli ammalati. Rispetto a questo, se non è vero che inquina, per noi inquina, De Luca l'ha detto, anche il presidente l'ha detto, se non inquina, quereli De Luca e sia conseguenziale. Se non lo querela vuol dire che loro inquinano e non fanno nulla per non inquinare. Grazie a tutti.